Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città e buon giovedì 3 maggio, finalmente splende il sole qui a Torino, abbiamo una bellissima giornata quest'oggi dopo la pioggia che si è accumulata nel corso dei giorni precedenti, una pioggia dire il vero che non ci ha del tutto abbandonato perché potrebbe tornare nei prossimi giorni, ma insomma oggi ci godiamo questo bel sole, oggi temperature che nel corso del pomeriggio arriveranno anche intorno ai 22 gradi circa, è possibile che ci sia il rischio temporale nel corso del pomeriggio, per il momento nulla fa pensare a questo, ma alcuni dati ce lo possono confermare, quindi staremo ovviamente a vedere. Andiamo a vedere adesso alcune notizie di viabilità perché sono molte, cominciamo da queste, le postazioni degli autovelox oggi in città, le troverete nei corsi Grosseto, Moncalieri, Unione Sovietica, Vittorio Emanuele, Tazzoli, Orbassano, Cosenza, Siracusa, Galileo Ferraris, Allamano, Vercelli e Maroncelli. Ancora in Lungostura Lazio, nelle vie Guidoreni, San Sovino, Botticelli, Onorato Vigliani e infine nelle strade Aeroporto e Druento. Fino a sabato sono attivi anche i controlli con telecamera, lo sapete, nelle vie Santa Teresa, San Secondo, Cernaia, Sacchi e Corso dei Gasperi. Stanotte da l'1 alle 3 sarà chiuso il sottopasso lanza per le operazioni tradizionali di pulizia meccanizzata e l'ultima segnalazione riguarda fino alle 19.30 di questa sera in via Santa Croce tra Piazza Carlina e via San Massimo un divieto di transito per alcuni lavori edili. Vediamo adesso alcune notizie che abbiamo tratto dalla prima pagina del sito della città e dall'edizione odierna di Torino Click. La prima, ne abbiamo già parlato in questi giorni, riguarda la festa dei vicini 2012 perché ritorna sabato 2 giugno questa festa organizzata a livello europeo il cui obiettivo è quello di contrastare l'isolamento e l'individualismo delle città moderne, di affermare il valore comune della cittadinanza europea. Ebbene la festa è prevista il 2 giugno che guarda caso qui da noi è anche la festa della Repubblica ma per potersi iscrivere ufficialmente al programma e ricevere tutte le necessarie autorizzazioni per il proprio cortile, il proprio condominio, la scadenza è il 9 di maggio, quindi mercoledì prossimo sul sito della città trovate tutte le informazioni per poter aderire. Su Torino Click di oggi invece trovate un completo reportage su quanto è stato presentato ieri, ovvero l'edizione di quest'anno di Biennale Democrazia che quest'anno si amplia, diventa Biennale per la Legalità fino al 23 di maggio, una serie di laboratori per le scuole, di appuntamenti di confronto tra i cittadini e di lezioni pubbliche, in particolare dal 19 al il 23 di maggio ci saranno queste lezioni pubbliche con ospiti di eccezioni nei teatri della città. Tutti gli appuntamenti si concluderanno il 23 di maggio, l'anniversario della strage di Capaci in Piazza San Carlo con il concerto di Franco Battiato con la partecipazione dell'orchestra di Porta Palazzo. Ultima notizia è quella relativa a una presentazione che c'è stata poco fa a Palazzo Civico, si tratta dei nuovi sportelli laborientarsi, degli sportelli di orientamento per i giovani tra i 16 e i 22 anni che li possano guidare verso scelte consapevoli nella transizione dalla scuola e dagli studi al mondo del lavoro. Vi daremo conto ovviamente anche nei prossimi giorni di come fare per potervi rivolgere a questi sportelli. E vediamo adesso alcuni appuntamenti che abbiamo selezionato per voi a partire dal pomeriggio dalle ore 17 alla Cascina Marchesa nella Biblioteca Civica. Ci sarà l'incontro con Benedetta Tobagi nell'ambito dell'iniziativa di cui parlavamo prima proprio per la legalità promossa da Biennale Democrazia, Benedetta Tobagi figlia del cerebro giornalista ucciso nel 1980, autrice di Come mi batte forte il cuore, storia di mio padre edito per i tipi di Einaudi. Per la serata invece la prima segnalazione riguarda la musica alle 20 e 30 all'auditorio Marturo Toscanini della Rai, l'Orchestra Sinfonica Nazionale sarà diretta da John Axelrod con il violino solista di Daniel Hope. In programma c'è il concerto numero 1 in sol minore per violino e orchestra di Brooke e la Sinfonia numero 4 di Schumann. I biglietti vanno da 20 a 30 euro. Per il teatro la segnalazione è per stasera alle 21 al Teatro Astra con Pasto a 2, una creazione di e con Stefano Mazzotta e di Emanuele Sciannamea. I biglietti sono 13 euro per quanto riguarda i ridotti 18 euro per gli interi. E infine chiudiamo con il cinema perché nell'ambito della rassegna dedicata ai film in lingua originale al massimo 3. Questa sera alle 21 c'è la proiezione di War Horse, film di Steven Spielberg del 2011 con Emily Watson e Peter Mullen. Lo troverete a partire da 5 euro per i ridotti, 7 euro gli interi. La proiezione come detto è alle ore 21. Bene, è tutto per quest'oggi. Allora grazie a Paolo Mosso per la messa in onda del giornale. A voi tutti l'augurio ovviamente di una buona giornata. L'appuntamento è per domani alle 12 con la prossima edizione di Torino Web News.